Bene, abbiamo parlato del morgante di Luigi Pulci e abbiamo visto l'elemento parodico, la presa in giro quasi dei valori cavallereschi tradizionali, anche perché Pulci da uomo colto sa bene che questi valori sono in parte decaduti nella società del suo tempo e quindi li presenta in chiave umoristica e satirica. In diversa maniera questi valori vengono ripresi e cantati, messi ad elementi fiabeschi e interpretati in nuovo modo da Matteo Maria Boiardo, che è il primo dei tre grandi autori del poema epico cavalleresco a Ferrara, quindi ci spostiamo anche geograficamente da Firenze a Ferrara. In questa pagina, che avete nelle dispense di quarta pagina 24 e in quella di terza in una delle ultime pagine, potete vedere uno schema sinottico con i quattro autori messi a confronto per data, quindi epoca in cui hanno vissuto, ambiente sociale e pubblico a cui si rivolgevano, data delle pubblicazioni delle opere, generi, forme, strutture, temi, obiettivi e lingua. Vi invito ad osservare attentamente lo schema sulle vostre dispense ed eventualmente a preparare un vostro personale commento sulle differenze, dopo aver ovviamente letto i passi proposti. Se infatti l'obiettivo principe di Luigi Pulci era divertire, con la consapevolezza che gli alti valori della cavalleria medievale erano ormai decaduti nel presente, Matteo Maria Boiardo e gli altri autori dopo di lui pensano che, oltre a divertire, oltre a dilettare, le loro opere possano anche educare di nuovo a questi valori umanistici, valori cavallereschi, scusate, che possono essere ripresi negli ambienti umanistici delle corti del Rinascimento e quindi in parte attualizzati e praticabili anche nel presente. Spostiamoci dunque a Ferrara, finalmente, alla corte dei Ducchi d'Este, la cosiddetta corte estense. Qua nella carta abbiamo in porpora i territori della casa estense nel 1499, quindi più o meno all'epoca dell'Ariosto, in cui viene pubblicato l'Orlando Furioso. Ma il primo dei tre grandi autori del poema epico-cavalleresco del Rinascimento italiano, a Ferrara, è, vi dicevo, Matteo Maria Boiardo con l'Orlando Innamorato, opera che scrive tra il 1476 e il 1494. Il 1494 è anche l'anno della morte di Matteo Maria Boiardo e infatti il poema rimane incompiuto, non riesce a finirlo. L'opera ha tanto successo, piace talmente che dopo di lui Ludovico Ariosto riprenderà le fila della storia e ne scriverà la continuazione appunto con l'Orlando Furioso. Andiamo ora a vedere trama e temi dell'Orlando Innamorato. Qua, in questa immagine, intanto per commentare quello che abbiamo davanti, è rappresentato uno spettacolo del Teatrino dei Pupi Siciliani, una tradizione antica parte almeno dal Settecento, che sussiste tuttora e in cui di nuovo sono riprese le gesta e le storie dei paladini di Carlo Magno, in particolare riferendosi proprio alle storie dei poemi epico-cavallereschi rinascimentali, e vengono rappresentate sul palcoscenico ad opera di questi pupi, che sono delle marionette abilmente mosse dai fili, dai burattini, specialisti specializzati in questo tipo di rappresentazioni. Quindi vedete che a livello popolare questo tema e soprattutto questi personaggi hanno avuto grande fortuna che dura tuttora. Il poema si apre con l'arrivo della bellissima Angelica, principessa del Catai, Catai era la Cina, praticamente chiamata così, che giunge alla corte di Carlo Magno, accompagnata da suo fratello Argalia, e gli sfida i paladini di Carlo Magno a duello, promettendo a Angelica come premio a chi riuscirà a sconfiggerlo. Argalia però non gioca pulito perché ha delle armi fatate che lo rendono invincibile. Nonostante questo però, quasi per incidente, Argalia viene ucciso e Angelica si ritrova così, senza protezione. Vedete anche qua il senso ironico della vita, quello che sembrava certo, un dato di fatto, Argalia invincibile, poi non si verifica o succede tutt'altro. E' questo elemento un po' ironico della vita che ci gioca degli scherzi, ci sbatte di qua e di là, è presente anche nell'Orlando furioso. Tra l'altro Angelica è talmente bella che, appena entrata nella sala dove si trovano i paladini, ha attirato l'attenzione di tutti, e in particolare Orlando e Rinaldo si sono innamorati di lei. Quindi, quando il suo fratello Argalia viene ucciso, Angelica fugge e Orlando e Rinaldo la inseguono. A un certo punto entrano in un fitto bosco, la cosiddetta selva delle Ardenne, dove ci sono delle fontane magiche. Qui Rinaldo beve alla fonte dell'odio, mentre Angelica beve alla fonte dell'amore. Per cui si inverte il giro, Angelica comincia a inseguire Rinaldo, che la sfugge. L'unico che rimane sempre innamorato di lei è il paladino Orlando. Dopo varie avventure, Angelica torna in Cina. Vedete anche l'elemento fantastico nelle distanze, torna in Cina come fosse da qui a lì, soprattutto a quel tempo che il viaggio era assai lungo invece. Beh, comunque, tornata in Cina, trova, dopo poco, il re tartaro agricane, che vuole assediare la città dove lei si trova, perché vuole sposarla. Angelica si trova quindi in pericolo, chiusa dentro la città, con agricane fuori. Però ha un'arma molto potente con sé, niente meno che un anello magico. Un anello magico che ha il potere di rendere invisibile chiunque lo indossi. Ovviamente Angelica lo mette al dito e senza essere vista riesce ad uscire dalla città. Fuori ci sono i paladini, Orlando e Rinaldo, che l'hanno seguita fin lì e a cui lei chiede aiuto. Essi quindi giungono in suo soccorso e il re tartaro agricane viene sconfitto e ucciso. Intanto i mori, i musulmani dell'Africa, oltrepassano il mare per arrivare in Europa, in particolare portare guerra ai franchi. E il loro re, a Gramante, è molto determinato a compiere questa battaglia. Per cui Carlo Magno e i franchi si trovano in pericolo, senza i paladini migliori che sono andati niente meno che in Cina dietro ad Angelica. Quindi Orlando e Rinaldo ritornano immediatamente in Francia in aiuto e in soccorso di Carlo Magno nella battaglia tra cristiani e musulmani. Nel frattempo, mentre Orlando ritorna in occidente, seguito da Angelica, con lui e anche Rinaldo, passano di nuovo dalla selva delle Ardenne e qui per caso Rinaldo beve di nuovo alla fonte dell'amore e comincia di nuovo a inseguire Angelica, la quale beve alla fonte dell'olio e ritorna a sfuggirlo. L'unico che rimane sempre innamorato di lei è Orlando. In questo momento critico per i cristiani, sia Orlando sia Rinaldo sono innamorati di Angelica e arrivano a duellare per lei. Carlo Magno, scandalizzato dal comportamento dei suoi paladini, li divide e prende con sé Angelica sottraendola ai due. La affida a un cavaliere di sua fiducia e la promette come premio finale a chi tra i paladini si sarà comportato nel modo più valoroso combattendo contro gli infedeli. Nel frattempo si sviluppa, ci sono, va detto, molte storie in mezzo a questo che è il filone principale che vi ho sommariamente sintetizzato e vi dicevo tra le altre storie collaterali si sviluppa la storia d'amore tra Ruggero e Bradamante. Ruggero che è un guerriero saraceno e Bradamante che è una bellissima guerriera cristiana, nonché sorella di Rinaldo. tra questi due nasce un amore che è destinato a continuare destinato a continuare perché Ruggero si convertirà e sposerà Bradamante. Dai due avrà origine la dinastia estense e quindi dalla lode di questi personaggi ricaviamo la lode degli antenati di tutta la casa d'este che era appunto la casa dei mecenati, dei protettori dell'autore. Il poema rimane incompiuto come vi dicevo a causa della morte di Boiardo. Qua abbiamo un'immagine di un cavaliere innamorato appunto l'Orlando vedete che viene colpito dalla freccia di Cupido, Eros e questa potrebbe essere per esempio Angelica che lui insegue dall'inizio alla fine del poema. E a proposito della bella Angelica vorrei rileggere con voi uno dei passi che abbiamo visto insieme e che riguarda proprio l'inizio del poema quando Angelica giunge bellissima alla corte di Carlo Magno. Ecco, questa è l'ottava numero 21 che ci presenta appunto l'apparizione di Angelica. Però che in capo della sala bella quattro giganti grandissimi e fieri entrarno e lor nel mezzo una donzella che era seguita da un sol cavalieri essa sembrava mattutina stella e giglio d'orto e rosa dei verzieri insomma, a dir di lei la veritate non fu veduta mai tanta beltate. Che ovviamente significa riprendendo il discorso che era iniziato nell'ottava precedente infatti perciò in capo a uno dei capi della bellissima sala che è l'aula reggia il salone della reggia dove si trovavano i paladini di Carlo Magno riuniti con il re quindi tutta la corte un ambiente gentile molto cortese entrarono a un certo punto quattro giganti smisurati grandissimi e terribili fieri e in mezzo a loro una fanciulla che era seguita da un solo cavaliere sarebbe suo fratello Argalia vedete come la denota bellissima a niente meno che come la stella del mattino sarebbe venere anche un attributo addirittura della vergine questo appellativo richiama l'idea della donna angelo della letteratura cortese dello stil nob essa sembrava una stella del mattino e un giglio dell'orto del giardino e una rosa del giardino versieri sempre un termine che deriva dal latino viridario ma un luogo pieno di fiori di vegetazione in sostanza insomma a dire di lei la verità non fu vista da nessuno mai prima tanta bellezza quindi appare bellissima e splendida se notate molti sono i riferimenti i richiami a testi della prima poesia italiana come quelli dei poeti siciliani o dei poeti stilnovisti che paragonano la donna a un giglio a una rosa a un fiore comunque prezioso alla stella del mattino anche la parola versieri antica non latinismo viene utilizzata in alcuni testi della prima letteratura e quindi c'è un rimando anche stilistico al mondo della poesia cortese e all'immagine della donna angelo della prima letteratura europea e italiana in questo luogo dove sono riuniti i più nobili cavalieri della corte di carlo magno cavalieri comunque gentili e cortesi appare angelica che incarna la forza dell'anore una forza potente a cui nessuno può resistere vedete appunto la chiama stella del mattino come una folgorazione al che i guerrieri sono attratti da lei questo diminuisce questo atteggiamento diminuisce un po' la loro dignità perché perdono la ragione per amore per averla vista però li rende molto più umani quindi non sono i cavalieri perfetti supereroi delle chanson geste antiche ma hanno però acquisito un comportamento che li rende comunque più umani più vicini a noi a noi per amore per amore